Salve, con questo video cominciamo una nuova rubrica che vuole parlare dei gerghi italiani. Che cos'è? Si suole disegnare genericamente con ogni lingua, con gergo, gergons, vulgare, trutannorum. Ogni lingua convenzionale è parlata da certe classi di persone con l'intenzione di non farsi comprendere da altri oppure con lo scopo di marcare l'appartenenza o anche la non appartenenza di chi parla a un certo gruppo. Naturalmente i gerghi europei sono rinomati, ma anche noi pensiamo al Pulci del Morgante, anche i medici a Firenze provavano un divertito interesse per la pitoccheria, come dimostra la lettera indirizzata da Luigi Pulci a Lorenzo il Magnifico nel 1472. Lo stesso Pulci stende di sua mano una nota di parole e frasi furbesche, ci dice Ferrera appunto nel dizionario storico dei gerghi italiani dal 400 a oggi, che è il libro di riferimento per questa rubrica, frasi furbesche di cui si coglie un eco anche nel capitolo diciottesimo del Morgante del 1478 e compone una frottola in sette stanze gergali. Dal lessico furbesco del Pulci emergono allo stato larvale alcune voci che continueranno nei secoli e altrettanti capi saldi lessicali dei gerghi italiani, limatta come camicia, polima, cosco, casa, grima, vecchia, bistolfo, prete, poi pisto, anche più diffuso del gergo toscano e da quello settentrionale o veneto, calmone, le cui prime tracce sono documentate da due sonetti scambiati prima del 1460 da Giovanni Francesco Soardi, dall'umanista Felice Feliciano, in cui è trasparente il gioco dotto ed erudito, verbale, parlare e voce culta, rifatta sul latino, di debole o nulla, intensità criptica. Più in generale il 400 è il secolo in cui l'eruzione gergale assume vistose proporzioni in tutta Europa. Quindi andremo a vedere con questa rubrica, a salvare ogni volta una parola diversa, ne parleremo, parleremo dell'etimo di questa parola, vedremo l'utilizzo nelle frasi, insomma andremo a cercare questa identità ricercata e promessa anche attraverso l'elaborazione di un codice linguistico, veniva così dissolta e come negata in una regressione verso rapporti elementari feroci si assisteva a una sorta di fenomeno schizofrenico su grande scala, analogo a quello registrato durante il terrorismo, così come per esempio saltando nella storia novecentesca il brigatista rosso era il bravo ragazzo a porta accanto dalla vita apparentemente reprensibile, ecco che la grande criminalità di questi ultimi anni mira a mimetizzarsi nell'attività finanziare, eccetera, e ha bisogno anche la mala, ha bisogno di un gergo, passa a vedere Gomorra, passa a vedere Suburra, vengono utilizzati e viene utilizzato un gergo, poi viene a pensare anche ad Arancia Meccanica, che è un libro di Borges è praticamente tutto giocato sul gergo, i termini mi fa male il gulliver, la devochka, sono tutte voci di gergali ovviamente, in questo caso inglesi. Poi nel secondo dopoguerra infatti ci si è venuti ad occupare anche dei linguaggi giovanili, forse si può far concidere questa attenzione con la rilevanza che hanno assunto le rivolte studentesche del 68, che hanno riportato in auge la necessità di un gergo, i giovani come protagonisti di storia, come oggetto di studio, più consapevoli della loro forza, delle loro procurative, anche in coincidenza con la rinuncia dei padri ad esercitare non solo l'autorità, ma anche il dialogo dotati di una crescente potere d'acquisto, preda di un marketing sempre più raffinato, i ragazzi che parlano nel dizionario giovanilese raccolto all'inizio degli anni Ottanta da Manzoni e dal Monte sono una costellazione totalmente diversa da quella dei loro coetanei degli anni Cinquanta e Sessanta. Il gergo giovanile, quindi in questa rubrica, che cercheremo di dargli un nome ben presto per categorizzarla, per fare anche la playlist, se avete qualche suggerimento scrivetelo pure nei commenti, e in questa rubrica voglio salvare le parole del gergo, il gergo italiano, parole che vanno dal Quattrocento fino agli anni Ottanta del Novecento, e niente, perché mi sembra importante il gergo è un aspetto linguistico importante e interessante, come la lingua e i dialetti, e poi abbiamo la possibilità di abbeverarci a questo testo fondamentale di Ernesto Ferrero, ripeto, dizionario storico di gergo italiana nel Quattrocento Oggi, Arnoldo Mondadori Editore, di cui non sappiamo se c'è una ristampa, questo libro è del 96, e andiamo subito a cominciare con la prima parola che salviamo oggi, cerchiamo di fare una rubrica giornaliera, tanto sono video brevi e di facile frizione. Naturalmente per i più ghiotti, per coloro che vogliono dei riferimenti bibliografici, daremo sempre anche il riferimento, come dire, bibliografico, da dove traiamo, da dove ovviamente Ferrero ha tratto questo termine gergale. Cominciamo naturalmente con l'A, e con l'espressione che Ferrero ritrova in viriglio, come si parla a Torino, impressioni e scandagli, Torino stampato nel 1897, chiamato appunto il viriglio. Si parla del, il termine in italiano è abate, indlabate, per dire ottimo, eccellente, degno di un abate, alemvin, l'abate, è un gran vino, naturalmente i piemontesi, mi perdone, hanno il seno toscano, quindi cerco di fare il possibile, se vogliono suggerire miglioramenti, basta che mi mandino tranquillamente, scrivano sotto nei commenti, modo piemontese, più dialettale che gergale, dice appunto il viriglio, che riprende la voce popolare secondo la quale certi abati gaudenti non si fanno mancare niente. De Pilat, invece, di Pilato, è invece qualcosa di scadente, di poco appetibile. Abbiamo dato il via a questa rubrica con la parola abate, il libro riferimento al dizionario storico di Gerghi Italiani da 400 oggi, i linguaggi cifrati dei vagabondi del 400 e quelli della furfanteria urbana dell'800 studiata da Cesare Lombroso, le parole degli artigiani nomadi oggi scomparsi, quelli della camorra, della mafia, dell'andrangheta, le voci dei soldati, degli studenti, lo slang, delle discoteche e della droga, naturalmente grazie all'aiuto di Ernesto Ferrero, noi andremo a ripercorrere in questi video su YouTube. Salviamo una parola dei Gerghi patri italiani. Ci vediamo alla prossima parola.